Nel cammino della Chiesa l'apporto dei laici è fondamentale, lo ha ribadito Papa Francesco parlando alla plenaria del Pontificio Consiglio per i laici dedicata all'annuncio nell'era digitale. Tra le possibilità offerte dalla comunicazione digitale, ha notato il Papa, la più importante riguarda l'annuncio del Vangelo. È indispensabile essere presenti in rete, ma sempre con stile evangelico, in quello che per tanti, specie giovani, è diventato una sorta di ambiente di vita, i cattolici devono risvegliare le domande insupprimibili del cuore sul senso dell'esistenza e indicare la via che porta a colui che la risposta, cioè la misericordia divina fatta carne, il Signore Gesù. Cari amici, ha detto il Papa, la Chiesa è sempre in cammino alla ricerca di nuove vie per l'annuncio del Vangelo. L'apporto e la testimonianza dei fedeli laici si dimostrano indispensabili ogni giorno di più.